allora Giulia ha scelto la carta, parlano ora tutti quanti tra nei calè, così la vogliono tutti quanti e memorizzano, ok, ci siamo? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ti ricordi Giulia che carta hai scelto? Che carta era? Vediamo che qua ne abbiamo qualcuno isolato, magari perché ho fatto un po' di confusione prima scelto in tasca, tu che carta hai scelto? Questa qua sicura che la colla? Perché io prima in tasca ne ho trovato un'altra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti